Incidente mortale questa mattina dopo le 11 lungo la strada statale 16 adriatica nel tratto Marotta Sud a perdere la vita in sella alla sua Vespa 50 Maria Testa Guzza di 78 anni residente a Marotta travolta da un'auto che seguiva dopo che è caduta rovinosamente sull'asfalto la donna stava procedendo lungo la strada statale adriatica in direzione Ancona Pesero quando per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale ha tamponato una Chrysler Cruiser guidata da una donna del posto residente proprio in quel punto della statale ed intenta ad entrare nel proprio garage la donna è caduta rovinosamente sull'asfalto la 78enne è stata travolta sfortunatamente poi da una seconda auto una Citroen LN vecchio modello condotta anch'essa da una donna residente a Torrette di Fano la quale non è però riuscita ad evitare la scuterista a terra ai soccorritori del 118 arrivati rapidamente sul posto le condizioni della donna sono apparse subito disperate e l'hanno trasportata d'urgenza al vicino ospedale di Senigaglia dove però la donna è deceduta subito dopo il suo arrivo sul posto due pattuglie della polizia locale di Marotta Mondolfo che ora dovrà ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed una pattuglia dei carabinieri per regolamentare la viabilità particolarmente intensa in quel momento sulla nazionale